Sono la pittrice. L'uomo ha interessato mia figlia e milanese. È lì che andremo, se il ritratto gli piacerà. Ha sfinito già un pittore prima di voi. E come mai? Sono anni che sogno di farlo. Morire? Correre. Voi dovrete dipingerla senza che lei se ne accorpi. Pensa che voi siate una compagna di passeggiate per qualche giorno. Ci sapete del mio matrimonio? Niente. È tutto quello che sono anch'io. Voi quando vi sposerete? Non so se mi sposerò. Dato che potete scegliere, non potete capirmi. Quando perdete il controllo, alzate le sopracciglia. Veramente. Quando siete turbata, respirate con la bocca. Quanto tempo resteremo? Non lo so. Provo un nuovo sentimento. Il rimpianto. Qual è il titolo? «Ritratto della giovane infiamme». Mastri